Ci spiegate una volta per tutte come sarà il nostro futuro tecnologico? E tutto sarà connesso insieme, il PC del futuro, la TV del futuro, il telefono del futuro, tutti saranno insieme su una sola rete. Più del 95% delle famiglie avrà un network computer a casa. Il modo con cui comunicheremo l'un l'altro sarà la posta elettronica multimediale. Questo cambierà il modo di educare i nostri figli, il modo di presentare noi stessi, il modo di comprare cose e servizi. I treni accorciarono le distanze quando apparvero. Gli aeroplani le accorciarono ancora di più. I computer interconnessi tra loro, attraverso internet o altre reti telefoniche, portano questo processo di abbreviazione delle distanze un passo più avanti. Il nazionalismo è il vero nemico del progresso. E quando si discute di cose come il sistema telefonico va liberalizzato, la risposta è sì. Se tutti saranno collegati con il computer, ci sarà una rivoluzione culturale. La storia si muove verso una cultura globale. E se tutti saranno online, questo movimento sarà più veloce. E già dall'anno 2000, ci saranno più persone che parlano inglese in Cina che negli Stati Uniti. L'industria del computer ha fatto bene finora, ma c'è ancora molto da fare.